C'era una volta in Italia Sergio Leone, così il titolo della mostra che apre il 22 ottobre e fino al 6 gennaio al Museo del Cinema di Torino si celebra nell'occasione il cinquantesimo anniversario di Per un Pugno di Dollari, da poco restaurato dalla Cineteca di Bologna. La mostra La Mole Antonegliana ripercorre tutta l'opera di Sergio Leone, a 25 anni dalla sua scomparsa, mentre una retrospettiva dei suoi film viene proiettata al cinema massimo sempre a Torino.